Il ministro delle imprese del Medi in Italy, Urso, e il presidente di Confindustria Bonomi, oggi in missione a Kiev, si tratta della prima visita di un esponente del governo Meloni, occasione per inaugurare il desk di assistenza alle imprese presso l'ambasciata italiana e offrire supporto alla ricostruzione delle infrastrutture all'economia ucraina. Per Bonomi la ricostruzione ha una portata e un significato che vanno ben oltre i soli interessi economici e impone un approccio unitario e coordinato nella definizione di strumenti e priorità nella logica di fare sistema. Grazie